bene voglio bentornati su real napoli football ragazzi veniamo da una partita persa 4 a 3 contro un avversario che secondo me sta aiutando un po dallo script ma sicuramente noi non abbiamo fatto abbastanza per vincere detto ciò andiamo a cercare subito il prossimo avversario come sempre si fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale magari commentate per farmi sapere che ne pensate quello che state per andare a vedere vediamo chi ci capiterà come avversario vediamo che succederà in questa puntata avversario trovato si era tardi egitto credo egitto napoli egitto napoli andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno messi servirebbe nemmeno a dire una vittoria il maestro il maestro non giocherà giocherà olivera bene così avversario con quara levandowski di ab interessante interessante davvero ok andiamo al match ragazzi si parte egitto napoli abbiamo assolutamente bisogno di una vittoria ragazzi assolutamente che anzi siamo certi i giocatori in campo si parte a rice caraschie palla dentro per l'egitto che prova subito a penetrare lo bocca anghissà recuperare palla di lorenzo vada politano si allunga la palla come un idiota palla dentro raccomani proviamo a chiudere di lorenzo raccomani allarga per politano male politano che non anticipa la giocata anghissà vada politano attenzione politano dentro per di lorenzo la palla con un po di fortuna arriva l'anghissà che non riesce a prendere palla di lorenzo appoggia per zedischi che vada meretta che rilancia lungo verso osimen non riesce a spizzarla pò di lo bocca l'appoggia dembele la recupera lo bocca e va subito da quara schelia fallo laterale per noi olivera palla per natan la ridata olivera bella giocata qui olivera prova ad andare dentro brutta palla di olivera natan scende natan fallo laterale per noi partita un po contratta per il momento olivera natan zedischi palla per quara schelia dentro per lo bocca che non riesce ad andare l'anghissà adesso ci va olivera tanghissà che poi allarga da di lorenzo che vada matteo politano si gira politano politano palla tanghissà che allarga il quara schelia osimen attacco per insieme rischi ma e penso che qui meritavamo ampiamente il gol che non siamo riusciti a fare di lorenzo prova a crossare donna rum lancio lungo tensione anghissà provano andare a chiudere scuola schelia niente da fare ci arriva di lorenzo che appoggia raccomani che però sbaglia il passaggio verso anghissà di lorenzo ancora scuola schelia di lorenzo lo chiude insieme a raccomani che va da meret che rilancia con un brivido osimen zedischi allarga zedischi verso di lorenzo palla per politano che deve rientrare politano la parata incredibile del portiere ci stiamo provando zedischi andrà da no vittorosimena palla scuola schelia calcio d'angolo no si calcio d'angolo ancora con un po di fortuna qua zedischi andrà da merracca mani che prova a spizzarla cavara schelia per poco non prova a correggerla in porta riparte legitto con natan che va a chiudere poi olivera raccomani da politano osimen appoggia ancora per politano peccato qui attenzione olivera natan chiusura di natan e poi allarga per quara schelia che la da zedischi che cerca di lorenzo di lorenzo non riesce ad andare ad appoggiarla saliva rilancia lungo olivera raccomani palla per politano 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 raccomani errore di raccomani attenzione che adesso deve rincorrere con quara schelia che prova a scendere quara schelia raccomani adesso va a chiudere su quara schelia quara si gira raccomani lo segue più di una volta raccomani poi mette palla in calcio d'angolo e qui ce la caviamo discretamente calcio d'angolo attenzione battuto di rischi a liberare e poi politano con un brivido ma la palla finisce a ranghissà contro piede imbastito bene con zirischi che scende zirischi 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 la parata il dollaro ma 4 a 0 inter ma chi ha segnato il quarto fra abbiamo a sussi tutti quelle che ci sono intanto zirischi zirischi prova a crossare verso mi raccomani per quara schelia dai armato diciamo ma che cazzo ha parato questo che cazzo ha parato questo ragazzo intanto zirischi andrà questa volta da vittorosi men che prova a metterla dentro la palla resta lì di lorenzo covara schelia dentro per osi men palo ragazzi non ci credo non ci posso mai credere ragazzi non ci posso mai credere c'è questa voglio fare veramente paru napoli di stan andene short mai comunque mai e comunque di lorenzo palla per politano dentro gran palla di politano per victor osi men che prova a scendere osi men si ferma e viene fermato victor anghissà dentro per osi men che appoggia zirischi niente da fare niente da fare raccamani di lorenzo errore quara schelia prova a scendere quara schelia prova a dare una mano anche anghissà e raccamani appoggia per di lorenzo palla per politano che la da zirischi che prova a far correre un po io volevo andare da osi perché non è andato da osi riparte l'egitto attenzione con di lorenzo proviamo a chiudere lo botca di lorenzo in chiusura su quara schela che riesce per accrossare non ci credo un giocatore importante che scelta per affondare 1 a 0 di tembélé un gol senza senso vabbè di lorenzo poggia per lo botca che vada zirischi palla per osi men che tira e ancora la parata la palla non esce nemmeno questa corta la recupera e poi la butta in fallo laterale quara schelia palla verso libera dentro ancora per quara schelia che si gira prova a rientrare quara schelia fallo laterale ancora zirischi vada eh quara vada zirischi che poi andiamo da lo botca lo botca dentro per politano che tira e matteo politano la pareggia con ampio merito onestamente aggiungerei ampio merito la pareggia sberla di politano 2 a 1 e 1 a 1 ragazzi a fine primo tempo meritavamo assolutamente questo pareggio 7 tira 1 porca troia e che cazzo andiamo al secondo tempo si riparte osi men palla per lo botca larga per olivera ma brutto passaggio di olivera camaminga recupera palla attenzione dembele olivera va a farfalle attenzione cross di camaminga ma no raccomani palla poi arriva a zirischi che cerca direttamente osi men che appoggia per di lorenzo che la ridà victor osi men si gira osi men rallenta osi men cerca quara schelia che si gira quara schelia prova ad andarsene cross in mezzo non arriva a zirischi di lorenzo palla per lo botca quara zirischi dentro però si men niente da fare olivera lo bot carico la palla anghissà prova ad andare subito anghissà niente da fare riparte l'egitto ricopriamo palla con kvara schelia si ferma kvara schelia fermato la cama venga dembele levandoschi dentro di lorenzo spazza di lorenzo osi men niente da fare kvara schelia prova a recuperare di lorenzo insieme a zirischi non ci riesce natan e guarda la guarda che sta succedendo meretti il lancio di meretti verso victor osi men che prova a spizzare per kvara schelia niente da fare mamma mia raccamani vede poi politano un po libro politano prova il dribbling volitano te arnandez con mestiere qui come venga attenzione di lorenzo palla per matteo politano che si gira prova ad andarsene matteo politano attenzione politano prova ad andare dentro perché non l'ho alzata se lo volevo fare perché perché vabbè prova a ripartire ancora leggetto palla dentro meretto facile meretta rilancio lungo attenzione osi men appoggia kvara schelia kvara schelia si ferma va dentro da victor osi men perché non è sceso zirischi la non si sa non si sa serve qualche cambio ragazzi lo bot carico per la palla e vada politano che prova ad andare dentro da osi men cerca zirischi dentro per kvara schelia niente la fare però attaccare leggetto natan lo bocca prova a scendere lo bocca allarga malissimo lo bocca attenzione olivera ben recupero palla qui di olivera kvara schelia si gira dentro per zirischi si ferma zirischi 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 non vedo nessuno a guidare palla lo bocca anch'essa politano dentro per rosi men arriva di lorenzo che la rimette dentro arriva si men niente da fare niente da fare a piccole cambiare pure luce ma marica l'uomo e tira lo tirava di più buone me potete arnaldo rongongio subito che il trequartista trequartisto non so se mettere anche raspa mettere un po den donker mi copro un po dilo è stanco ragazzi è troppo stanco dilo troppo stanco pasqualino mazzocchi dentro e non so se mettere uno tra fra uno tra simione e raspadori non so se mettere il ciolito sono sincero vai già ci stavo pensando quindi vai va bene mazzocchi cerca raccmani che cambia tutto verso raspadori che di testa prova a darla all'instrom scende l'instrom l'ha fermato la costa curta con le cattive secondo me vabbè olivera poi allarga per raspadori dentro per l'instrom che la ridà raspadori scende raspadori 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 dentro non ci credo come l'ha presa quello attenzione palla dentro natan palla arriva in gongiae con un po di fortuna l'instrom si gira l'instrom prova ad andare dentro da raspadori 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 la parata osimen 2 a 1 vittorio osimen povero portiere qui era riuscito a corsa la prima conclusione ma non poteva fare eh quello volevo fare solo che mi è mancata la freddezza onesto attenzione a cazzo volando no no ma no benaccio bambino eterno a me e tacchetto raspadori che ha provato a spaccare la partita adesso ci riprova attenzione ancora pasqualine eh eh giacomino raspadori rientra raspadori ancora raspadori dentro per l'instrom palla dentro niente da fare mazzocchi dentro per den donker fallo su den donker fallo su den donker lo botca dentro verso l'instrom pallaccia fallo di Olivera attenzione palla dentro den donker recupero palla e Olivera prova ad andare da raspadori che prova ad andarsene fermato questa volta da costa curta prova a recuperare den donker niente da fare figo se ne va figo figo e Olivera qui fa un piccolo salvataggio attenzione ci rega la palla Holand con Olivera che va da Nathan che spacca il mento a Holand niente da fare Meret rilancio lungo di Alex Meret attenzione Osimène prova a prendere posizione non ci riesce arriva lo botca nemmeno a raccomani palla dentro per l'instrom che si gira l'instrom dentro per Osimène che fa correre Giacomino Raspadori che entra in aria Raspadori Raspadori Vadosi che si gira Osimène non ci credo den donker e va den donker palla per Raspadori l'instrom gesper l'instrom gesper l'instrom 3 a 2 gesper l'instrom attenzione vota Kistenderro Pasqualino la butta fuori arrivo Rosimène Gonge la butta più lontano possibile arriva Giacomino Raspadori che la mette addirittura dentro teniamo palla lontana finisce qua vaffanculo ragazzi ci prendiamo una vittoria al novantesimo fondamentale per il nostro percorso una bella partita meritavamo ampiamente di vincere ampiamente di vincere e l'instrom ci regala una vittoria spaventosamente bella 3 a 2 bene così risaliamo a 1315 punti molto altalenanti per il momento ma dobbiamo continuare di vincere